Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi e adesso vi farò vedere come funziona l'app di Costa Crociera, ovvero Costa App. Eccoci qua, adesso aprirò la mia Costa App dopo essermi collegata al wifi della nave. Come vedete in basso ci sono varie sezioni, come crociera, escursioni, oggi a bordo, chat e altro. Nella sezione crociera possiamo leggere alcune informazioni riguardo al porto in cui ci troviamo. Nella sezione escursioni, le escursioni disponibili. Nella sezione oggi a bordo, possiamo visionare tutte le attività a seconda della fascia oraria. Nella sezione chat, possiamo appunto chattare e comunicare con tutti gli ospiti della nave che hanno scaricato Costa App senza l'utilizzo di internet. Nella sezione altro, invece, possiamo visionare il nostro profilo, alcune informazioni sulla nave, i pacchetti internet, informazioni utili, la mia agenda, dove possiamo visionare le escursioni che abbiamo prenotato, oppure il meteo e le mie spese. Spero che questo video sia stato utile per voi. Ciao! Grazie a tutti!